Sarebbe di grande aiuto se ci venisse concesso la possibilità di fare i tamponi, scrittime sanitarie gratuitamente. C'è preoccupazione tra i vigili del fuoco veneziani dopo che alla caserma di Maestre quattro di loro sono risultati positivi al coronavirus. Per questo segretario regionale e provinciale della UIL di categoria hanno chiesto a Regione ed azienda sanitaria la possibilità per il personale di effettuare un tampone su base volontaria, in particolare a Maestre. Sono state attivate quelle che sono tutte le varie accortezze, ovvero è stato aumentato il livello di guardia, si sta cercando praticamente di sanificare le sedi, di aumentare praticamente il più possibile la sicurezza e il distanziamento tra il personale, però c'è molta apprezzione da parte dei colleghi. La UIL chiede anche una riduzione significativa del numero dei rinforzi in sedi diverse da quelle abituali di servizio, facendo ricorso se necessario allo straordinario appagamento o richiamando in servizio personale e operativo della stessa sede. Ci sono dei colleghi allo stato attuale che sono in quarantena preventiva e con la quarantena preventiva, giustamente devono attendere di effettuare i tamponi. Se risulteranno positivi al Covid, naturalmente poi loro dovranno dare indicazione di eventuali altri colleghi con cui sono venuti a contatto.